Carissimi ragazzi, gentilissime famiglie, buongiorno. Quest'anno, in un anno così particolare in cui la pandemia ha veramente regolato i ritmi delle lezioni, dello studio, degli incontri, ebbene, in quest'anno così particolare siamo riusciti a immaginare un progetto che non vuole essere legato soltanto al 2021, ma un progetto di lunga campata, un progetto che vede la realizzazione di un libro musicale in cui i ragazzi diventano i protagonisti, gli esecutori degli studi di Suzuki. È un progetto abito, grande, che ha bisogno di tempo, che ha bisogno di essere sedimentato, compreso, assimilato. Però, un piccolo assaggio, noi l'abbiamo preparato, l'abbiamo preparato per voi, giusto per farvi capire quanto sarà bello nel tempo avere un prodotto grande, corposo, rappresentativo dell'impegno che i ragazzi mettono giornalmente nel percorso che fanno. Buona scelta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.